L'associazione rappresenta un primato per la Regione Calabria in questo momento, perché per la prima volta noi usciamo da quelle tecniche, da quegli strumenti obsoleti che si sono verificati, che si sono materializzati negli ultimi anni, nel senso che si cerca di vedere la situazione, le problematiche attenenti al nostro territorio insieme. Non ci sono più dei singoli cantanti, ma ci siamo uniti da Tortora fino ad Amantea per cercare di creare una sorta di coro, per cercare di cantare all'unisono e risolvere determinate problematiche che allo stato attuale stanno superando quella che è la soglia, quella che è la tolleranza, al punto tale da farci riunire e concretizzare il nostro intervento insieme. L'associazione da questo punto di vista prende una serie di esponenti eterogenei, abbiamo amministratori, ex amministratori, imprenditori, liberi professionisti, che per l'appunto uniti dalla voglia di voler fare, dalla voglia di voler reagire a queste difficoltà, dicono che riuniamoci insieme e cerchiamo di risolvere e di migliorare anche le efficienze, nonché di denunciare le criticità. Grazie a tutti.